Ciao a tutti, sono Giorgia e oggi vi parlerò del Bosco dei Ricordi. Il Bosco dei Ricordi è un progetto nato nel 2017 con due obiettivi. Dare la possibilità di poter donare un regalo che duri in eterno ed aiutare l'ambiente, riducendo l'anidride carbonica presente in atmosfera. A progetto ultimato le piante assorbiranno annualmente circa 210.000 kg di anidride carbonica pari a 230 voli da New York a Milano. Col Bosco dei Ricordi si ha la possibilità di acquistare una delle essenze arboree autoctone presenti nel Parco delle Groane, quali per esempio i Tigli, i Frassini, il Rovere e la Quercia. Ogni pianta posata a dimora sarà dotata di una protezione shelter che è necessaria per la protezione dell'apparato vegetativo dai roditori, di un disco pacciamante che è necessario per evitare la crescita delle infestanti, da un palo tutore per la giusta crescita della pianta e da un ulteriore palo per la posa della targa ricordo. Le fasi di piantumazione prevedono l'utilizzo di ammendanti specifici, quale micro-rizze per la radicazione e concimi naturali che permetteranno una crescita più rigogliosa. L'acquisto di una pianta del Bosco dei Ricordi è per tutte le ricorrenze, quali per esempio una nascita, un evento particolare, il ricordo di una persona o di un animale o altro. Successivamente all'acquisto verrà posizionata sulla stessa una targa con la dedica voluta e inoltre al beneficiario del regalo verrà spedita una busta contenente la spiegazione del nostro progetto, una mappa per raggiungere il Bosco dei Ricordi e un elegante pergamene in cartoncino contenente appunto la dedica. E ora non ti resta che far mettere le radici ai tuoi ricordi. E ora non ti resta che far mettere il nostro progetto,